È trascorsa appena una settimana dall'inizio e al Grande Fratello cominciano a nascere diverse dinamiche. Tra queste ce n'è una che vede protagonista Ilaria Galassi, la showgirl di Avezzano nota al pubblico per aver partecipato a Non è la Rai. Cos'è accaduto? Mentre tutte e tre le ex di Non è la Rai si trovavano in camera, Ilaria ha preso la parola e, riferendosi a Elena Prestes, ha detto «Io sono tanto serena e calma». Con quella faccia mi ha detto di stare al calma. «Ma che sei matta! Ma sei fuori di capoccia! Lei è così, è altalenante!» Pamela è d'accordo, un conto è avere un determinato carattere, un conto è non capire quello che vuol dire e fare. Io non riesco a capirla. Io vorrei provare a capirla ma non la capisco. Arriva, prende, se ne va, si muove, dice una cosa che non ha senso. Riparte e poi non si capisce. Ilaria aggiunge «Lei parlava di un migliore amico ma sono due giorni che ci si conosce». Io gliel'ho detto proprio. Magari c'è empatia. Il pubblico non sembra aver gradito queste frasi di Ilaria. Un utente, ad esempio, ha scritto che in passato seguiva Non è la Rai e anche Ilaria aveva un carattere simile a quello che ora critica. Lei, I Galassi, NDR, da giovane era tranquilla. Ma mi faccia il piacere. Il video finisce qui ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.